Cosa è il marketing su YouTube? Guida. Imparate a creare una strategia di marketing su YouTube e scoprite 5 strumenti utili. Il marketing su YouTube è una strategia che prevede la creazione di video e il loro caricamento su YouTube per promuovere un marchio o un prodotto e ottenere maggiore visibilità. Aiuta le aziende a incrementare il traffico, ad aumentare la base di clienti e a raggiungere un nuovo pubblico. Perché YouTube è uno strumento di marketing efficace? Poiché i 22,8 miliardi di visite mensili di YouTube lo rendono il secondo sito più visitato al mondo dopo Google, oggi è in grado di apportare molti benefici alle aziende. La piattaforma non è solo un famoso canale di intrattenimento, ma anche un potente strumento di marketing, e le aziende possono sviluppare canali YouTube per la pubblicità. I canali YouTube aiutano a ottenere più visualizzazioni da nuove aree geografiche, a promuovere un prodotto o un'azienda, a costruire un'ampia base di clienti e ad aumentare il volume delle vendite di un marchio. YouTube è anche una famosa piattaforma educativa. Le aziende possono ottenere una maggiore esposizione, ampliando così la loro base di clienti. Realizzando tutorial dettagliati, live stream, guide e lezioni, i marchi possono posizionarsi più in alto su Google. L'invio di annunci pubblicitari è un altro motivo per cui le aziende utilizzano la piattaforma di condivisione video online, poiché aiuta i marchi a raggiungere un pubblico più ampio e a ottenere nuovi clienti. Inoltre, è molto più economico della pubblicità a pagamento su Facebook e Instagram. Ora che sapete perché YouTube è considerato uno strumento di marketing efficace, è il momento di scoprire i suoi principali vantaggi. Vantaggi del marketing su YouTube La piattaforma può essere uno dei canali di marketing più efficaci. L'ottimizzazione delle parole chiave nei titoli e la creazione di tutorial, commenti, recensioni di prodotti, domande e risposte e videoelenchi consentono alle aziende di ottenere una maggiore esposizione e di raggiungere un nuovo pubblico. I brand non possono prevedere chi e quando accederà ai loro video. Se il contenuto contiene le parole chiave necessarie nel titolo e nella descrizione, tutte le persone che cercano informazioni potrebbero imbattersi in un determinato video, rimanere sul canale e acquistare il prodotto pubblicizzato. Inoltre, l'aggiunta di Watermark e Lugiaziendalia i video consente alle aziende di migliorare la consapevolezza del marchio. I video vengono visualizzati nei risultati di ricerca di Google e offrono alle aziende maggiore visibilità e l'opportunità di attirare un maggior numero di potenziali clienti. Dopo aver esplorato i vostri contenuti su YouTube, i clienti potrebbero visitare il vostro sito web per saperne di più sui vostri prodotti. I vostri video rimarranno sulla piattaforma di condivisione video finché saranno conformi alle sue linee guida e alle sue politiche. Poiché YouTube è un'azienda internazionale, consente ai marchi di tutto il mondo di raggiungere nuove aree geografiche. La piattaforma aiuta ad attrarre clienti da diversi paesi che parlano la stessa lingua. Il vantaggio principale di YouTube è che offre la possibilità di promuovere efficacemente la propria azienda. Un'azienda può farlo creando e pubblicando contenuti sul proprio canale o pubblicando annunci pre-roll sulla piattaforma e guadagnando l'attenzione del pubblico. Per raggiungere rapidamente gli spettatori e fidelizzarli al proprio canale YouTube, è necessario sviluppare una strategia. Come creare una strategia di marketing su YouTube Creare un canale su YouTube Ricercare il pubblico di riferimento Condurre un'analisi della concorrenza Creare video basati sull'algoritmo di YouTube Iniziare a caricare contenuti sul proprio canale Fornite tutte le informazioni necessarie sul vostro canale Promuovere i video Considerare l'influencer marketing Misurare il successo YouTube offre alle aziende innumerevoli opportunità Grazie alla sua enorme base di utenti, le aziende possono promuovere efficacemente i loro prodotti Scopriamo come creare una strategia di marketing su YouTube e come implementarla per il vostro marchio Creare un canale su YouTube Per creare un canale, potete utilizzare il vostro normale account Google Tuttavia, sarete l'unica persona a poter accedere Se avete bisogno di un account che permetta a più utenti di accedervi contemporaneamente, dovreste creare un account di marca Con il suo aiuto, potrete avviare diversi canali su YouTube Ricercate il vostro pubblico di riferimento Prima di creare video, è necessario analizzare i dati demografici di YouTube Esplorate la posizione, l'età e le preferenze di visualizzazione del vostro pubblico target per soddisfare le esigenze degli utenti In base ai desideri e alle esigenze del vostro pubblico di riferimento, sarete in grado di creare contenuti utili Raccogliete tutte le informazioni essenziali sui video che le persone amano guardare di più Se avete già un account aziendale su YouTube, esplorate le sue analisi Vi fornirà maggiori informazioni sulle preferenze del vostro pubblico Analizzate i commenti, fate domande o create un sondaggio per scoprire meglio gli interessi e i desideri dei vostri iscritti Conducete un'analisi della concorrenza YouTube è una grande piattaforma con molti account commerciali in tutto il mondo e la concorrenza è alta Analizzando i vostri rivali commerciali, avrete la possibilità di determinare le opportunità del vostro canale Innanzitutto, identificate i 3 a 5 concorrenti di maggior successo Per farlo, potete utilizzare gli strumenti per le parole chiave per vedere quali sono i marchi che hanno il ranking più alto in base alle parole chiave relative al vostro settore Prestate attenzione alle loro metriche, ai titoli, alle descrizioni e ai commenti sotto i video per trovare informazioni utili e ispirazione In secondo luogo, dovete determinare i punti di forza e di debolezza dei vostri concorrenti, e un'analisi SWOT vi aiuterà a farlo Creare video basati sull'algoritmo di YouTube YouTube ha un proprio algoritmo di classificazione Se volete posizionarvi in alto, dovete creare miniature riconoscibili, le istantanee dei vostri video, ottimizzare i titoli e le descrizioni e utilizzare parole chiave Questo vi aiuterà ad avere la priorità rispetto ad altri canali e video e ad ottenere più visualizzazioni Per scrivere un titolo forte, includete le parole chiave appropriate Aprite YouTube Analytics per trovare queste parole e frasi e aggiungetele ai vostri titoli Assicuratevi di utilizzare le parole chiave all'inizio Inoltre, scrivete un titolo di 60 caratteri o meno Le parole chiave più importanti devono essere utilizzate nella descrizione per scrivere un riassunto del video Per motivare gli utenti a compiere l'azione desiderata, aggiungete delle cita sotto forma di cartolina, schermata finale, watermark o annuncio bumper Infine, incoraggiate gli utenti a mettere mi piace, commentare, iscriversi e condividere Iniziate a caricare contenuti sul vostro canale Create un programma per caricare i video in tempo In questo modo, gli spettatori sapranno quando il nuovo video è in arrivo Assicuratevi di scegliere il giorno e l'ora con il più alto livello di coinvolgimento e visualizzazioni Se avete già caricato alcuni video, potete controllare le analisi per definire la data più appropriata per il caricamento dei nuovi video Fornite tutte le informazioni necessarie sul vostro canale Per semplificare la ricerca, è necessario ottimizzare il proprio canale Ci sono diversi passaggi da considerare per consentire agli utenti di trovarvi più velocemente Innanzitutto, completate il vostro profilo Assicuratevi di compilare la descrizione del canale, di caricare il vostro logo e di utilizzare la grafica del canale Inoltre, potete aggiungere altri canali o risorse che gli iscritti potrebbero trovare utili In secondo luogo, assicuratevi che il vostro canale contenga i link al vostro sito web e ai profili dei social media In terzo luogo, create un trailer per il vostro canale YouTube per presentare la vostra azienda agli spettatori e informarli sul vostro prodotto Comunicate la dichiarazione del vostro marchio e spiegate agli utenti perché dovrebbero iscriversi al vostro canale Promuovete i vostri video I vostri video possono ottenere visibilità se i loro titoli includono parole chiave pertinenti Considerate la possibilità di creare account su diversi social media con video interessanti e di qualità In questo modo si attirerà l'attenzione e si incoraggerà il passaparola Esistono diversi modi efficaci per informare gli iscritti sui nuovi contenuti del vostro canale Con SendPulse, potete creare un elenco di iscritti e programmare l'invio di email per avvisare gli utenti dei nuovi video aziendali Considerate l'influencer marketing Gli opinion leader hanno un vasto numero di follower che potrebbero essere interessati al vostro prodotto È sempre una buona idea contattare gli influencer che lavorano nella stessa nicchia e sono pronti a promuovere la vostra azienda e i vostri prodotti Potete proporre loro di collaborare, dato che il 49% dei clienti si fida delle raccomandazioni degli influencer Misurate il vostro successo Grazie a tutti